Ok, ciao a tutti da Alessio, benvenuti a un altro contributo video dove si parla dei locali perché secondo me credo che sia importante parlarne. Nel video precedente avevo parlato dei locali che vi chiamano e quando tu ci vai a parlare, invece di parlare di canzoni e di musica e della tua musica che tu fai, ti dicono invece guarda, ascolta, non me ne frega niente di che musica fai l'importante è che tu mi porti tanta gente. Ecco, questo era l'argomento principe del video scorso. Questo video invece lo voglio dedicare sempre sui locali perché sono al centro di questa polemica che io mi sono messo a fare perché secondo me non si fa così. Ecco, secondo me c'è un comportamento assolutamente terroristico nei confronti di quelli che fanno la musica nel vivo. Ma volevo parlarvi delle scuse, cioè i locali che una volta che poi ti hanno fatto cantare ti trovano delle scuse affinché, per farti insomma intendere che la sera è andata male oppure per farti capire che assolutamente non ci hanno guadagnato una sceppa. Va bene? Ok. E quindi vuol dire che torni a casa senza neanche un euro perché altrimenti sarebbe troppo semplice. Allora dunque, le scuse dei locali sono svariate. Io posso soltanto dirvi alcune di quelle che mi ricordo perché sono talmente tante che a un certo punto poi uno se le scorda un po' perché se le vuole scordare e un po' perché gli rimangono impresso quelle più originali. È un po' come quando si dice le scuse dei ragazzi quando vanno a scuola per non aver fatto le lezioni. Ci sono questi simpatici aneddoti. Ecco, anche in questo caso i locali, le scuse dei locali per non pagarti sono straordinarie. Io credo che in alcuni casi sono eccezionali. Allora, vi porto un esempio. Allora, una sera ho fatto una serata di musica dal vivo in un locale dove mi aveva chiesto espressamente di portare gente e in un locale dove io gli avevo detto, guardi, io non sono proprio certo che la gente ci sia oppure riesco anche a portarla perché viene per simpatia nei miei confronti. Non è proprio detto che consumi un pranzo da nozze perché poi c'è anche questo. Insomma, che poi la cosa forte è che i locali pretendono che tu porti gente ma poi pretenderebbero anche che spendessero come se andassero in un matrimonio. Quindi diventa ancora più difficile. La gente viene anche a vedermi cantare però non è che puoi pretendere che ti mangi tutto il menù che hai preparato. Però c'è anche questa intenzione. Portami gente che deve mangiare che magari amici che è una settimana che non toccano cibo, cose così. Allora tu dici, va bene, vado in questo locale. Era un venerdì, ricordo molto bene e a un certo punto questo locale che solitamente lavora il giusto perché l'ho vicino a casa e quindi posso assicurarvi che insomma, vabbè, c'ha sempre quelle 15 macchine fuori. Insomma, non è non di più. Quella sera lì, io ve lo giuro perché altrimenti non starei qui a fare un video se dovessi raccontare delle bugie. Quella sera lì davvero aveva pieno. Questo volevo dirmelo. Aveva veramente pieno. Pieno talmente tanto che non era solo piano fuori perché si sta parlando dell'estate ma anche la sala dentro. Aveva la gente al banco. Insomma, bella serata, bella vispa. E questo mi fece piacere perché lì si guarda, hai visto? Abbiamo fatto del nostro meglio. Arrivo in fondo alla serata io smonto la mia strumentazione e poi vado dal titolare di questo locale, di questo localino. Insomma, e dico, ma allora via, com'è andata? È la domanda. È la domanda come dire, come va? E hai detto, eh, guarda, te lo devo dire, non sono rimasta veramente molto contenta. Ecco, questo comincia così. Già quando comincia così dici, ah, ok, bello. Te sei bravo, ma veramente, sono contento di come hai fatto la serata, però devo dirtelo. Le persone che stasera erano qui, e io, o non erano tante? Cioè, viene. Certo, erano tante, ma sono sempre le solite persone che io di solito ho di venerdì. Ecco, questa è, cioè, voglio dire, come puoi, puoi dire a questa persona, non è vero, le ho contate una a una, alcune han detto che non erano mai venute. Come fai a fare un sondaggio di questo tipo? Devi soltanto fidarti che lei ti ha detto che assolutamente erano sempre le stesse persone che aveva il venerdì. E quindi questo che cosa sottintende? Sottintende che se tu c'eri, o non c'eri, era uguale, perché avrebbe lavorato esattamente identico. Quindi te, agli occhi di questa persona, eri soltanto un costo aggiuntivo su una serata che, se tu non ci fossi stato, in quanto erano sempre gli stessi clienti di quel venerdì, lei avrebbe guadagnato di più, perché non avresti avuto tu come costo. Al di là del fatto che poi questo è un discorso deficiente, assolutamente anticommerciale, secondo me, perché se si parla di servizio al cliente, no? E dico, vabbè, era sempre la stessa gente che c'era voi il venerdì, ma tu gli hai offerto però un servizio in più, cioè dove quel venerdì lì probabilmente le persone che sono venute si sono anche intrattenute un po' meglio perché c'era una musica dal vivo, no? Questo non conta, questo non conta, perché era sempre la stessa gente del venerdì, quindi vuol dire che ti eri un costo aggiuntivo, e quindi che vuol dire uguale non ti do un euro, anzi, in questo caso è stata ancora più forte, perché lei mi ha anche detto, mi ha presentato il conto di quello che io avrei mangiato quella sera, no? Che poi ho mangiato un panino con una mezza birretta, e lì ho chiesto soltanto una bottiglina d'acqua da mezzo litro mentre lavoravo, no? E basta. Mi aveva messo sul conto tutto, capito? Come per dire, ok, questo è quello che ora tu mi devi pagare, che ti detraggo da quello che non ti do, ecco, perché poi anche questo c'è. E io ho detto, ascolti, signora, e vado a fare una giratina, perché poi a un certo punto ho detto, se io sono venuto a lavorare, i clienti erano contenti, saranno stati anche sempre gli stessi che avevi tutti i venerdì, però questa volta erano contenti, non so le altre volte, in più non solo non mi vuoi dare nulla, ma mi vuoi far pagare anche quello che ho mangiato. Io credo proprio che questi locali andano a chiudere, ecco, questo andano a chiudere e non c'è il verso. Questo è un esempio, capito, del locale, una scusa per non pagarti, questa è una prima scusa per non pagarti. Ce n'è un'altra, che non vi do acconto qui, sennò sì, mi dilungo troppo. Ce n'è un'altra scusa per non pagarti, che ve la dirò nella seconda puntata, la seconda puntata che poi sarà la terza della serie, non so come la intitolerò, ma insomma poi vi informerò su questo argomento dei locali, va bene? Così almeno, voi ragazzi però, mi raccomando, voi che fate i musicanti, che andate in giro per i locali, vi succederanno delle cose, mi le raccontate per favore, se ne parla qua sotto questo video, per conoscere un po' il mondo dei locali anche al di fuori, io sto parlando di quelli toscani, e quelli toscani, ora non generalizziamo, quelli che ho incontrato io, nella mia zona, e quindi stiamo parlando della Toscana, dell'altra Toscana, poi c'è magari qualcuno che suona in Calabria, o in Puglia, e dice, ma effettivamente anche a me è uguale, oppure no, qui c'è qualcosa di meglio, e voi raccontate che ne parliamo, mi piace, perché secondo me più ne parliamo, e più smettano questi, di fare i farabutti, perché a un certo punto, non si fa mica così, vero o no? Allora vi aspetto, va bene ragazzi, grazie per l'attenzione, e argomento locali alla prossima volta, ciao, buona giornata, buone serate, ecco, cercate di farvi valere, di non farci fregare ragazzi, perché noi si lavora tutto il giorno con Mediamatti, ma qui se ne approfittano, grazie, ciao.